Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi! Come va? Spero tutto! Super 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 bene! Benvenuti o bentornati! E' un mio nuovo video! Oggi vi porto un video dedicato esclusivamente al brushing! Ho tre, tre pennelli diversi per cercare di rilassarti con questo mio video, questo mio primo video interamente brushing! E' una tipologia che a me piace molto e di fatto non vedevo l'ora di potervela portare! E' eccola qui per voi! Prima di cominciare però vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché per me è davvero molto molto importante! E in più vi ricordo anche di andarmi a seguire su Instagram per non perdervi nessun aggiornamento sul canale! Link in descrizione! Detto questo io direi subito 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 di cominciare! Allora, 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 allora! Come primo pennello io ho questo qui per voi! Che chi è passato in alcune delle mie live lo avrà già visto, anzi mi sono utilizzato soltanto su una live adesso non mi ricordo bene, però fa un suono pazzesco! Io direi prima di farvelo sentire sulla copertura del microfono e poi toglieremo la copertura per farvelo sentire ancora meglio in tutto il suo splendore! Allora, 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 allora! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora andremo a accompagnare il suono di questo pennello. Intanto sentite anche il tapping sul suo manico. Andremo a accompagnarlo insieme ad un altro pennello che più che pennello non so come definirlo sinceramente però fa un bel suono ragazzi. E l'ho scoperto proprio mentre stavo facendo un po' di prove, ecco. Sentite, il pennello è questo qui. Anche lui è apparso in alcune delle mie live. E sentite bene insieme. Ok. 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 ticca 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 ditemi se vi piacciono questi due suoni accompagnati insieme ecco Ora di raridogire la copertura del mio microfono e di sentirlo senza, quindi, lentamente. Sentite, adesso cercherò di parlare il più tranquillamente possibile perché sappiamo che senza la copertura è abbastanza sensibile. Andiamo. Grazie. Grazie. Perché poi le sedole di occhio composto vanno a infilarsi dentro i piccoli fori che si trovano sul microfono e fanno un suono proprio tipo lo scoppiettio. Ora ci riaccompagniamo sempre con questa e sentite, anche questa è una combo suprema. Grazie. 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 A me piace tantissimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci ragazzi. Anche questo pennello fa davvero un super suono sul microfono. E potrete sentirlo adessi. Grazie a tutti. Ditemi cosa ne pensate anche di questo qui. Anche se secondo me la combo pennello in questo senza la copertura del microfono è stupendo. Però questo è meglio con la copertura perché poi può andarsi a infilare dentro e fuori appunto queste sedule e poi può rovinare il microfono diciamo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Bene. Alla prossima. 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 E può sentirsi bene accompagnato con lui. Alla prossima. 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 Spero che questo video brushing, il mio primo video brushing vi sia piaciuto ma che soprattutto vi abbia rilassato e... non posso fare altro che... augurarvi una... tranquilla, gioiosa e serena notte, 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 notte